Vertenza Caterpillar, tre accordi sottoscritti nelle ultime ore, a Iesi arriverà la IMR, soddisfazione da parte dei sindacati. La Stoglia di Pietro, trentenne moldavo scampato alla guerra in Ucraina, oggi in cura nel reparto di oncologia degli ospedali riuniti di Ancona. Gli oligarchi russi e i loro interessi nelle marche, ville di lusso nel Pesarese. Appello dell'assessore regionale Guido Castelli ai comuni per l'avvertenza Bolkestein, non predisponete i bandi di gara. Una buona serata dalla redazione di ETV e benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Che vi ricordo potete seguire anche in streaming sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra app e ovviamente sul sito www.etvmarche.it. Ma iniziamo subito con le notizie, l'avete sentito dai titoli, c'è una ottima novità per quanto riguarda l'avvertenza Caterpillar. Sono stati sottoscritti in queste ultime ore tre accordi che porteranno, dovrebbero portare a Iesi la IMR, un'azienda che dunque assumerà tutti i lavoratori che erano della Caterpillar. Andiamo a sentire i dettagli nel servizio. Questo era un sogno che noi ci portiamo dietro dal 10 di dicembre quando Caterpillar ci ha detto quella bruttissima notizia. Il sogno è quello di non perdere un sito produttivo di valore, quello della Caterpillar di Iesi, e soprattutto di non lasciare senza lavoro i 189 dipendenti dello stabilimento. Un sogno che il 10 dicembre scorso all'annuncio della chiusura del sito da parte degli AD Caterpillar sembrava lontanissimo e che oggi invece sta diventando realtà grazie ai tre accordi sottoscritti nelle ultime ore. Oggi appunto abbiamo siglato due accordi in Confindustria, uno con Caterpillar e l'altro con IMR. E questo pomeriggio qui in Regione Marche abbiamo siglato un accordo che prevede lo spostamento della procedura di mobilità, quindi i licenziamenti, al 31 marzo. Naturalmente entro questa data è prevista la convocazione al MISE per l'apertura della cassa integrazione per cessazione di attività in capo a Caterpillar. I lavoratori Caterpillar conosceranno tutti i dettagli durante l'assemblea delle prossime ore, ma già possono tirare un sospiro di sollievo. Verranno salvaguardati l'anzianità lavorativa, i livelli di inquadramento professionale, gli scatti di anzianità, così come il premio di produzione. Questo accordo prevede il passaggio di tutti quei lavoratori in forza Caterpillar a IMR da qui a quando è possibile farlo, quindi dopo il closing da parte di Caterpillar con IMR e prevede anche delle condizioni non tanto diverse rispetto a quelle di prima, perché per fortuna siamo riusciti a non toccare le buste paghe. Che impressione vi ha fatto questa azienda? Allora, l'impressione è buona, in quanto negli incontri che abbiamo fatto l'azienda ci ha presentato un piano industriale realmente crevibile e quindi qui non siamo in presenza di una finta reindustrializzazione, perché su quello non avremmo nemmeno discusso. Abbiamo constatato la serietà dell'IMR e l'abbiamo anche notata nel confronto che abbiamo avuto per raggiungere l'accordo sindacale che permette il passaggio dei lavoratori dalla Caterpillar all'IMR. Buone notizie dunque per la Caterpillar, non altrettanto però purtroppo per la UIRPUL. Tona la casa integrazione con sei giorni nel mese di marzo, la misura riguarderà oltre 500 dipendenti tra operai e impiegati della sede di Melano a Fabriano. Si tratta, secondo i sindacati, di un effetto dovuto al costo dell'energia e alla guerra in Ucraina, anche perché UIRPUL è molto attiva nel mercato russo. E a proposito di Russia, iniziamo a parlare della guerra in Ucraina. Vi raccontiamo la storia di Pietro, trentenne moldavo scampato alla guerra, oggi in cura nel reparto di oncologia degli ospedali riuniti di Ancona. Lucio Cristino. Le notti erano molto difficili, c'erano i rumori dei bombardamenti, le luci dei missili che squarciavano il cielo, i suoni dei Kalashnikov. Avevamo molta paura. Piotr Gogu, trent'anni, moldavo, è scampato alla guerra in Ucraina. Da Kiev, dove era ricoverato in una clinica, è arrivato ad Ancona dopo un viaggio rocambolesco durato quasi 48 ore, via terra e via cielo. In Ucraina aveva moglie e figlia di cinque mesi, oggi al sicuro in Moldavia. Lo incontriamo nel reparto di oncologia degli ospedali riuniti di Ancona, primo paziente in fuga dalla guerra nelle Marche. Potrà proseguire le cure dopo un SOS lanciato da una ragazza moldava che conosce un parente del giovane. La vicenda nasce in maniera inaspettata, con un'e-mail arrivata all'alba sulla mia posta personale da parte di una persona che conosceva questo ragazzo. Ragazzo è arrivato nelle Marche e che necessitava di proseguire la terapia oncologica sospesa a seguito della riconversione del suo ospedale in ospedale di fatto militare. Quindi il ragazzo proviene da Kiev e dalla zona di guerra e ha trovato qua adesso una risposta ai suoi bisogni di salute. Continueremo le cure e cercheremo di portarlo verso un percorso di guarigione, speriamo. La realtà ha superato la burocrazia. L'assistenza sanitaria e i documenti sono stati là per mettere a sistema la macchina regionale dell'accoglienza. Per lui l'obiettivo è di poter restare in Italia con moglie e figlia al seguito. Nel frattempo, non avendo un alloggio, sarà il primo paziente ad inaugurare il casale Angelini. La struttura che recentemente abbiamo inaugurato è proprio di accoglienza per i pazienti oncologici, gratuita per loro, gestita da un'associazione di volontariato, Artis. Una struttura fortemente voluta dagli ospedali uniti di Ancona, ma in realtà da una serie di istituzioni, Università Politecnica delle Marche, Regione Marche, Comune di Ancona, e naturalmente realizzata grazie alla sensibilità e all'ungemiranza della Fondazione Angelini. Gli oligarchi russi e i loro interessi nelle Marche, Soldi e Ville di Lusso, nel Pesarese, l'approfondimento della nostra Giulia Boschi. Sorge su un terreno di 26 ettari sul Monte San Bartolo, con 650 metri di costa disponibile e totalmente privatizzata, e la lussuosa villa di 770 metri quadrati di Valentina Matvijenko, terza carica dello Stato russo. Presidente della Camera Alta Russa, legata a doppio filo con Vladimir Putin, Matvijenko è una delle figure chiave che ha dato l'assenso per la guerra che si sta combattendo in questi giorni in Ucraina. La villa, acquistata nel 2009 per 7 milioni di euro dall'ex manager di Luciano Pavarotti, Tibor Rudas, è utilizzata più che altro dal figlio della cosiddetta zarina, Sergei, nel periodo estivo, ma non sono loro i soli russi ad avere proprietà nel Pesarese. Lei e la sua famiglia, il suo figlio, hanno cercato anche, si parla di 13-14 anni fa, anche di in qualche modo accattivarsi la simpatia politica anche dei governanti locali, nel senso che mi ricordo, vado a memoria, mi pare fosse il 2009, il loro sindaco era Luca Ceriscioli. Sponsorizzarono i fuochi d'artificio che si fanno ogni anno per la festa del porto di Pesaro. C'è anche un altro oligarca che si chiama Boris Spiegel, inizialmente legato a Putin, che però è in decidio con Putin per il discorso dello Sputnik V. Lui ha una villa invece sull'altro colle che è l'Ardizio. La villa sul colle che sovrasta la città di Pesaro è uno dei numerosi esempi di proprietà di lusso che non solo nelle Marche, ma in tutta Italia appartengono a oligarchi e magnati russi. Beni che, insieme a Iotte e alberghi, l'Italia ha iniziato a sequestrare per le sanzioni imposte dall'Unione Europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ricchissimi e legati a doppio filo con la politica, gli oligarchi si affermano nei primi anni 90, in conseguenza del crollo dell'Unione Sovietica. Riescono ad accumulare grandi ricchezze ed andare a capo di aziende pubbliche dell'ex URSS. C'è però uno spartiacque nella storia di queste figure che riguarda in particolare coloro che acquisirono potere grazie a Putin. Potremmo distinguere tra gli oligarchi della prima fase, gli elziniana, e gli oligarchi di Stato che sono appunto quelli legati al KGB e quindi quelli della cerchia più vicina a Putin. Perché comunque in Russia comanda questo gruppo di potere legato ai servizi segreti. Sono diversi anni che gli oligarchi sono entrati nelle economie di tutto il mondo e di quella europea e spesso sono stati tollerati perché comunque portavano soldi, sono spacciati per filantropi perché comunque hanno finanziato magari delle fondazioni. Ma in realtà l'obiettivo era sia il riciclaggio di dinero sporco, ma soprattutto l'obiettivo era anche quello di influenzare la percezione politica del regime di Putin e anche influenzare le narrative e l'opinione pubblica della Russia in Italia. La pagina legata alla pandemia cresce sia pure di una sola unità il numero dei ricoveri legati al Covid negli ospedali delle Marche arrivati nell'ultima giornata a 188 di cui 17 in terapia intensiva. 19 invece i dimessi, 22 le persone in attesa di ricovero nei pronto soccorso. Sono 1748 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore con un rialzo di incidenza che seppur lieve torna però sopra quota 700. Siamo infatti a 703,07. Venendo ai dati di diffusione del contagio per provincia è sempre Ancona a guidare la classifica con 522 nuovi casi a seguire Macerata con 366, Pesaro Urbino con 309, Ascoli con 290, Fermo con 200. La buona notizia arriva però dal numero delle vittime buona perché resta invaliato dato che non si sono registrati i decessi nelle ultime 24 ore dunque speriamo che si continui così. Ora voltiamo pagina ma continuiamo a parlare di sanità. C'è accordo sui medici di continuità assistenziale tra regione e sindacati. Andrea Fiano. Rimappare le esigenze, i bisogni territoriali, dividere quelle zone in cui c'è una maggiore richiesta di assistenza rispetto a quelle dove la richiesta è un po' più bassa. Che cosa comporta? Comporta che in quelle zone dove la richiesta è più bassa la presenza del medico della continuità assistenziale si interrompe alle ore 24 e poi riprende con il medico di famiglia alle ore 8. In quelle zone dove invece l'assistenza è un pochino più consistente se ci sono più richieste, ad esempio le strutture residenziali, gli hospice, l'ospedale di comunità, lì rimane invece un'assistenza che va dalle 20 di sera fino alle 8 del mattino. È il sistema H16 rafforzata che i medici di Medicina Generale, l'Asur e la Regione hanno messo a punto nell'accordo per garantire, migliorare e ottimizzare le cure dei medici di continuità assistenziale, oltre 200 nelle Marche. La sperimentazione si declina in Hub Spoke con sedi principali in raccordo e a servizio di sedi secondarie per garantire assistenza a tutti seguendo l'orientamento del nuovo accordo collettivo nazionale che è in corso di firma, accordo che prevedrà una maggiore flessibilità con integrazione con la Medicina Generale e con l'emergenza Urgenza 118 per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio. Non è uno sguarnire il territorio ma è riqualificare la presenza del medico nel territorio perché poi molte delle attività si trasferiranno anche nell'aumento di prestazioni negli studi medici, nei distretti per la diagnostica di primo livello. Questo è una sperimentazione, quindi un primo passo che va nel senso anche di cominciare ad applicare, capire quali saranno le nuove regole con il PNRR. L'accordo prevede un incremento della quota oraria pari a 6,61 euro rispetto ai 23,39 euro del compenso base arrivando a 30 euro l'ora in caso di copertura di una sede scoperta. È prevista anche la possibilità di coprire più sedi scoperte arrivando così ad una remunerazione complessiva di 40 euro l'ora. L'adiguamento economico è legato all'aumento dell'attività che faranno dovendo coprire un territorio delle fasce orarie particolare proporzionale al lavoro. La delibera di giunta verrà pubblicata, penso, in giornata è già stata assunta, quindi le aree vaste possono incominciare a lavorare per rendere operativa sul territorio da subito. La direttiva Bolkenstein, l'appello dell'assessore regionale Guido Castelli, ai comuni non predisponete i bandi di gara. Sentiamo. La Bolkenstein è la spada di Damocle che pende sopra i destini dei concessionari balneari. La regione Marche, che sul turismo e l'accoglienza punta per il rilancio d'immagine nella prossima estate, sposta il campo di gara dalla spiaggia al Parlamento, lì dove verranno discussi e definiti criteri per la partecipazione alle aste delle stesse concessioni. Le idee, paletti che privilegino gli attuali concessionari oppure contributi d'uscita per quelli che non avranno prorogata la concessione. Ci sono margini di trattativa, insomma, intanto, però, le certezze sono che le recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno fissato la data di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024. Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha previsto una delega al governo per provvedere alla mappatura dei beni pubblici e delle relative concessioni. L'assessore Castelli ha intanto invitato i comuni costeri marchigiani ad astenersi dal predisporre autonomamente bandi di gara per le concessioni marittime, turistico-ricreative. Abbiamo voluto, in qualche misura, evitare che, in questa situazione già molto disordinata, si aggiungessero altri elementi di precarietà che rischiano di generare veramente una confusione che i nostri concessionari non meritano. Mi riferisco al fatto che, teoricamente, i singoli comuni potrebbero già partire per avviare le gare. Da questo punto di vista abbiamo voluto scrivere a tutti i responsabili dei comuni costieri invitandoli ad astenersi dall'indire nuove gare anche quando magari sono scadute le vecchie concessioni. Siamo in attesa, infatti, di una chiarificazione sia per quanto riguarda il merito delle gare, delle istruttorie, dei bandi che dovranno essere realizzati. Da questo punto di vista noi confermiamo, come in Regioni, ci sarà anche in questi giorni una serie di audizioni alla Commissione del Senato che sta esaminando gli emendamenti al decreto concorrenza che proprio in questi giorni sono oggetto di una vibrante protesta da parte dei concessionari. Noi siamo dalla loro parte, lo diciamo nei fatti e nelle cose concrete. Abbiamo voluto esercitare anche la nostra moral suasion. E continuiamo a parlare di mare. È presentato il calendario di bonifiche e pulizia dei porti all'interno del progetto Mare Circolare. Sentiamo. Concluso con successo il primo crowdfunding civico della Regione Marche Mare Circolare nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea Blue Crowdfunding. Si passa ora all'attuazione delle operazioni di bonifica Mare Terra di quattro porti delle Marche ad opera della Garbage Group in collaborazione con associazioni ambientaliste ed enti scientifici del territorio. È un'azione specifica che deve guardare la tutela del nostro ambiente marino e anche del nostro ambiente portuale. E questo progetto è un progetto che vede protagonista la Svam e alcuni partner privati con l'utilizzo dei fondi europei che ci consente di mettere in pratica anche l'alta tecnologia e l'espertise che siamo riusciti ad acquisire in questi anni. Oggi siamo qui per la fase conclusiva di un progetto che io ho trovato in itinere come Svam, che è il Blue Crowdfunding, molto importante per la Regione Marche, dove Svam è un soggetto attuatore e la Regione Marche è partner. Per la prima volta si sperimenta un'integrazione di quelli che sono i fondi strutturali europei con i fondi privati del crowdfunding, sperando di poterlo far diventare istituzionalizzandolo dentro la Regione. Quindi ringrazio i privati che hanno creduto in questo progetto e tutti quelli che l'hanno reso possibile. Si parte da Fano il 12 e 13 marzo per poi proseguire con il porto di Senigallia nel weekend del 19 e 20 marzo, Civita Nuova Marche il 2 e il 3 aprile, per poi concludersi a largo della riviera del Conero sabato 23 e domenica 24 aprile. Si è realizzato un progetto che avevamo pensato tutti insieme qualche mese fa, quindi c'è una grande soddisfazione da parte del gruppo, abbiamo messo su una squadra veramente fortissima, tra noi sommozzatori, volontari e la Politecnica delle Marche, CNR. Quindi siamo all'inizio di qualcosa che diventerà veramente importante. E vi ricordo che in questi giorni i canali TV trasmessi sul digitale terrestre vengono progressivamente convertiti nel nuovo formato in alta definizione, dunque per visualizzare i canali televisivi bisogna risintonizzare il proprio decoder o la televisione nelle Marche, lo switch off parte dalla provincia di Pesaro Urbino dove avverrà il 15 e il 17 marzo, poi Ancona è parte della provincia di Macerata il 17 e il 18 marzo, mentre tra il 22 e il 24 marzo sarà la volta del Piceno e del Fermano. Per non rischiare l'oscuramento e per ricevere ETV e tutti gli altri canali a partire da gennaio 2023 occorre verificare in questi giorni la compatibilità del proprio televisore con il nuovo standard. Dunque bisogna verificare se si vedono dopo la risintonizzazione i primi nove canali che saranno solo in HD. Ad esempio Rai 1 sarà visibile solo al numero 1 del telecomando e così via tutti gli altri canali nei prossimi giorni, nei prossimi mesi come ETV. Se ci si rende conto di avere una TV non compatibile si dovrà acquistare un decoder. e vi ricordo che vi sono anche contributi stanziati dal Ministero per l'acquisto di decoder o TV compatibili con il nuovo standard. Per il momento vi ricordo che ci potete comunque sempre seguire sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra app e sul sito www.etvmarche.it. Grazie e buona serata con i nostri programmi. Grazie a tutti i nostri programmi.